Ettore Guarnaccia, brevemente ripeto lui manager strategico, leggo dal suo curriculum, professionista certificato con importanti esperienze nazionali e internazionali in materia di governo dell'information technology, cyber security, sicurezza delle informazioni, conformità con leggi e regolamenti, mi fermo qui perché è troppo roba. Intanto buongiorno. Buongiorno a tutti. Perfetto. Allora Ettore, giusto per cominciare, giusto per inquadrarti, vorrei capire di cosa ti occupi. Beh, diciamo professionalmente io seguo da tanti tanti anni il tema della cyber security, quindi sicurezza informatica, lavoro per una grande banca, anzi la più grande banca italiana, ma in passato ho lavorato per altri gruppi bancari, sempre con responsabilità su questo ambito. Quindi insomma è un po' una mia ragione professionale occuparmi di sicurezza informatica. però appunto il collegamento con i temi che poi andremo a trattare oggi è legato al fatto che oltre che diciamo professionalmente io sono anche un genitore di un ragazzo che adesso ha 15 anni e qualche tempo fa quando lui ancora bambino ha cominciato ad avere a che fare con queste tecnologie moderne, digitali, quindi smartphone, tablet, eccetera, avendo questa formazione proprio sulla sicurezza informatica mi sono accorto che c'era un problema, nel senso non era preparato per interagire in maniera sicura con queste tecnologie e con tutto quello che ne consegue. e quindi da lì ho iniziato ad analizzare la tematica partendo ovviamente dalla mia formazione di base e da qui è nata l'idea da prima di fare degli eventi di divulgazione al pubblico nelle scuole e ho iniziato a collaborare con vari istituti scolastici. Che è il progetto Generazione Z. Poi sì, qualche anno dopo è nata l'idea di questo progetto, il progetto Generazione Z che è nato innanzitutto come un'indagine statistica perché mi rendevo conto, appunto portando questo tipo di sensibilizzazione al pubblico e ai ragazzi che mancava un certo tipo di letteratura statistica che non fosse asettica come di solito viene fatta così con domande poco contestualizzate ma avevo quindi bisogno di avere un questionario mio che puntasse molto più sugli aspetti comportamentali, emotivi e che trattasse diversi argomenti e non sempre i soliti di solito si parlava sempre di cyberbullismo in realtà il cyberbullismo è solo uno dei tanti aspetti dei rischi cui i bambini e gli adolescenti vanno incontro usando queste tecnologie in maniera non preparata e quindi buttai giù un questionario che poi perfezionai con l'aiuto di amici e di persone di un'associazione che collaborano con un'associazione di promozione culturale qui di Padova, Rete Progetti e una volta messo in piedi questo questionario lo proposi a diversi istituti scolastici del Triveneto e stranamente ebbe un successo eccezionale nel senso che ben 15 istituti aderirono e il questionario fu messo anche online quindi poterono aderire anche diversi bambini e adolescenti in tutta Italia tanto che appunto il numero dei rispondenti superò le 2000 unità quindi più di 2000 rispondenti con 100 domande 100 domande su tanti temi l'importanza di un questionario così vasto si è rivelata un aspetto vincente perché tutte quelle domande potrebbero essere ricondotte allo stesso soggetto ed era una cosa che non è mai accaduta non si è mai visto in un questionario così esaustivo così ampio in termini di argomenti e una volta che mi sono ritrovato fra le mani tutte queste informazioni molto molto interessanti per cui dopo è nata l'idea del libro esatto man mano che analizzavo questi dati dicevo sono dati troppo importanti per tenerli per me o per usarli solo negli eventi di sensibilizzazione devo in qualche modo restituirli sia agli istituti che ovviamente avevano partecipato ma anche al pubblico e così nacque l'idea di mettere in piedi un libro che esponesse questi dati ma anche portasse tutta quella che era l'esperienza gli studi che avevo fatto le ricerche sui vari ambiti appunto trattati da questionario poi ne parleremo magari in dettaglio e coinvolsi anche degli altri professionisti per la stesura per avere dei contributi anche dai punti di vista differenti quindi coinvolsi dei tecnologi degli psicologi, dei psicoterapeuti per avere appunto dei contributi che portassero valore aggiunto al lavoro che avevo fatto e così alla fine nacque quest'idea del libro il libro ha avuto un discreto successo soprattutto nell'ambito dell'educazione insomma molti psicologi mi hanno dato dei feedback molto interessanti anche perché ripeto è difficile trovare un'analisi statistica così importante in Italia io non ho ancora avuto modo di incontrarne una analoga quindi da qui l'idea prima l'osservazione del mio figlio mi sono reso conto che c'erano dei problemi ho deciso di portare questo tipo di educazione proprio nelle scuole ad oggi ormai sono passati sei anni che sono impegnato su questi temi e ho incontrato ho fatto un conto qualche tempo fa più di 2500 fra bambini e ragazzi nelle scuole adesso sta iniziando anche una collaborazione con l'università di Padova e ci sono varie collaborazioni anche in ambito diciamo più internazionale quindi c'è la possibilità appunto di portare un certo tipo di educazione e sensibilizzazione anche perché ce n'è un estremo bisogno uno dei problemi che ho rilevato è che le famiglie fanno fatica a trattare questi temi perché non li conoscono a fondo e quindi non possono trasferire ai propri figli gli strumenti educativi e cognitivi necessari per interagire in maniera responsabile sicura con queste tecnologie a scuola se ne parla poco nel senso che si parla molto spesso quasi sempre di cyberbullismo però tanti temi vengono ignorati o poco conosciuti certo e di conseguenza questi ragazzi fanno il loro esordio con queste tecnologie in età molto basse e si espongono inconsapevolmente a dei rischi molto importanti assolutamente sì siamo in una generazione abbastanza particolare anche parlare di genitori non sanno non hanno mai vissuto ai loro tempi certo è proprio questo il noccio della questione cioè i genitori vengono da un'epoca da un'era in cui queste tecnologie non esistevano le hanno adottate come meri utenti senza conoscerle a fondo e di conseguenza non hanno maturato quella sensibilità quell'attenzione che si ha in altri ambiti per esempio ai figli è normale insegnare a guardare bene prima di attraversare a non dare retta agli sconosciuti per strada e non si fa altrettanto quando interagiscono con le tecnologie cioè non dare per esempio l'amicizia a persone sconosciute non come dire dare retta a persone che vogliono ti chiedono qualcosa e tu non le conosci effettivamente non scambiare contenuti privati con qualcuno di cui ti fidi poco insomma cose di questo genere non vengono trasferite adeguatamente perché non si ha appunto la cognizione del fatto che è un rischio altrettanto importante come quello che si vive nella vita reale certo assolutamente sentimi un attimo allora da quello che ho capito almeno questo studio possiamo chiamarlo questo libro parte da dei report delle statistiche che tu hai tirato su dal territorio e poi come prosegue nel senso dà delle conclusioni dà dei suggerimenti sì praticamente dà una dimensione dei vari fenomeni dimensione non solo statistica ma anche spiega tutti quelli che sono i meccanismi che ci stanno dietro perché ad esempio queste tecnologie funzionano in un certo modo cioè sono studiate disegnate per attrarre il più possibile gli utenti e tenerli incollati al display e questo fa sì che per esempio uno dei temi importanti del libro è la dipendenza tecnologica il fatto che nella società moderna ci sia un evidente sottofondo di dipendenza che tocca un po' tutti ma tocca in particolar modo i più piccoli i più giovani i bambini gli adolescenti per i quali lo smartphone in particolare diventa un'estensione del corpo loro si svegliano con lo smartphone in mano e si addormentano con lo smartphone in mano e quindi ne fanno un uso assolutamente più intensivo più approfondito rispetto agli adulti e un uso così continuativo e diciamo senza la preparazione necessaria appunto apre la strada tutta una serie di rischi che se non conosciuti in maniera approfondita e se non riconosciuti diciamo possono indurre a cadere determinati problemi che possono diventare anche gravi e quindi abbiamo citato la dipendenza ma fra i macro temi trattati nel libro c'è ovviamente il cyberbullismo c'è l'adescamento online e ci sono tutti quegli aspetti legati alla sfera della sessualità vissuto ovviamente online quindi al di là ovviamente del tema della pornografia ma anche tematiche legate allo scambio di contenuti intimi diciamo espliciti fra di loro fra i ragazzi e quelle che sono le possibili conseguenze di queste pratiche che stanno diventando sempre più diffuse e poi tanti altri temi sempre di contorno per esempio si parla di quelli che sono i disturbi psicologici che possono essere in qualche modo amplificati dal web per esempio i disturbi dell'alimentazione quindi l'anoressia la bulimia oppure l'autolesionismo o la tendenza al suicidio tutti elementi che via web trovano un certo tipo di supporto e quindi possono essere addirittura accelerati nei loro processi ci sono tematiche legate per esempio all'isolamento sociale il fenomeno degli ikikomori che spesso viene confuso con la dipendenza da internet o dalla tecnologia è un fenomeno che nasce di per sé e che nell'uso della tecnologia trovano certa valvola di sfogo quindi la dipendenza tecnologica non è all'origine del fenomeno ma in realtà è il contrario è strettamente legato diciamo che a livello statistico è molto diffuso il fatto che questi ragazzi isolati il fenomeno degli ikikomori riguarda appunto l'isolamento volontario che di solito sono proprio chiusi in una stanza che di solito esatto avviene nell'adolescenza che è la fase cruciale della vita di ognuno in cui si sentono più le pressioni sociali le pressioni di autorealizzazione magari si hanno anche problemi di autostima legati a qualche piccolo trauma vissuto nell'infanzia cose di questo genere e alcuni ragazzi scelgono di isolarsi volontariamente nella propria camera non escono non vogliono vedere nessuno e quindi la tecnologia diventa il loro unico contatto con il mondo esterno quindi è ripeto un aggancio che hanno per poter comunque continuare a in qualche modo relazionarsi col mondo esterno non è invece il contrario come spesso si confonde anche nei media si fa spesso molta confusione dicendo che la tecnologia è ciò che fa sorgere questo tipo di problema esattamente il contrario e poi ci sono tematiche legate anche a aspetti come l'incitamento all'odio che è un altro tema molto importante perché riguarda comunque la nostra la nostra educazione la nostra cultura generazioni che crescono con degli esempi che spesso poi vengono forniti da personaggi politici o da VIP perché sono i primi che poi sul web o sui social si offendono fra di loro danno anche un po' di esempio negativo da questo punto di vista e questo incitamento all'odio poi viene favorito appunto da questo tipo di esempio i ragazzi i bambini e gli adolescenti imparano dall'osservazione e dall'imitazione degli altri e ovviamente vedere che l'odiarsi o la discriminazione in generale è un elemento comune nel mondo virtuale può far passare appunto questa pratica come qualcosa di normale mentre invece è una cosa che deve diventare uno degli elementi educativi di una corretta educazione familiare e scolastica dei ragazzi per appunto evitare che cadano in questo tipo di pratiche certo allora tu sicuramente anche grazie al tuo lavoro penso non demonizzi completamente la tecnologia da quello che mi sembra di capire no 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 assolutamente la tecnologia anzi visto che è parte del mio lavoro la tecnologia ha sicuramente delle potenzialità enormi offre strumenti che fino a qualche tempo fa neanche potevamo immaginare quindi se usata in maniera responsabile e soprattutto proficua dà delle potenzialità enormi per chiunque il problema è che non la sappiamo usare non viene insegnato il giusto rapporto con la tecnologia per cui penso che una cosa che si possa osservare basta guardarsi intorno voglio dire l'utilizzo della tecnologia digitale è quasi sempre ludico quindi l'utilizzo di giochi o l'utilizzo di comunicazioni diciamo futili quindi chat per così parlare del più del meno ma non ha un utilizzo proficuo ovviamente questo riguarda le persone in generale e soprattutto non c'è appunto questa sensibilità verso un uso responsabile quindi di non cadere troppo in un uso continuativo ed eccessivo di questa tecnologia perché ovviamente questo ha degli effetti poi nel sia nel fisico che nella mente questo libro tratta anche questi temi prima di entrare appunto nel dettaglio volevo chiederti in una panoramica dell'esperienza dei dati che avete raccolto che percentuale di giovani già sanno utilizzare in maniera responsabile la tecnologia allora ho dimenticato di dire che la raccolta di queste informazioni è stata possibile anche grazie alla collaborazione di un'altra associazione che si chiama Uniti in Rete che è di Rovigo che la cui presidente Federica Bognolo mi ha dato una grande mano nel portare questo tipo di indagine negli istituti scolastici diciamo che la percentuale di ragazzi e bambini anche perché probabilmente l'indagine va dagli 8 ai 18 anni quindi anche lì un campione molto ampio è abbastanza bassa andrebbe comunque analizzata per singolo tema nel senso che ad esempio in tema di cyberbullismo i ragazzi sono molto preparati perché come ho detto prima se ne parla molto a scuola e il 98% degli interventi che si fanno a scuola in termini di sensibilizzazione riguardano proprio il bullismo e il cyberbullismo e se ne parla da anni infatti l'incidenza di questo fenomeno ormai è trascurabile rispetto ad altri temi gli episodi di cyberbullismo sono sempre meno l'incidenza misurata con la mia indagine era intorno al 9% ma è in calo grazie al fatto che c'è stato un'azione congiunta anche da parte delle forze di polizia e dai esperti che hanno portato la loro opera educativa negli istituti scolastici e in altri consessi per cui diciamo queste nuove generazioni stanno venendo su conoscendo bene il fenomeno su quel punto di vista poi ci sono invece degli aspetti che come dicevo prima non vengono trattati quasi per nulla e sono anche poco conosciuti e spesso vengono confusi con il cyberbullismo quindi giusto per mettere in chiaro il cyberbullismo è un fenomeno molto specifico che ha delle caratteristiche particolari e e non deve essere confuso tutto col cyberbullismo come spesso avviene per esempio nei media perché si tende per esempio sui giornali o quando si danno le notizie a confondere il cyberbullismo con non so il sexting piuttosto che con l'adescamento o ad altri aspetti il cyberbullismo ha tre caratteristiche principali che sono intanto partiamo dalla definizione che ha dato uno psicologo norvegese che è Dan always che è il primo che ha trattato il tema e che l'ha descritto e che l'ha fatto appunto l'ha portato all'attenzione del grande pubblico e dice il bullismo è il processo continuativo insieme reiterato di azioni volte a minare l'immagine pubblica di una persona che si svolgono generalmente in un arco temporale non breve e con specifiche modalità e ruoli ben definiti i tre aspetti del bullismo e del cyberbullismo sono l'aggressione intenzionale fisica o verbale la ripetizione nel tempo e uno squilibrio di potere o forza tra le parti ovviamente fra il bull e la vittima quando ci sono questi tre aspetti si può parlare di bullismo o cyberbullismo ovviamente a seconda se è un fenomeno reale o virtuale e in tutti gli altri casi invece no spesso si fa l'errore di includervi per esempio offese o intimidazioni che sono sporadiche non hanno niente a che vedere col fenomeno del cyberbullismo perché non hanno il requisito della ripetizione nel tempo oppure aspetti come il sextortion quindi l'estorsione come ricatto a fronte dello scambio di contenuti diciamo compromettenti fra i ragazzi o quello che viene definito revenge porn quindi quando vengono pubblicate delle immagini anche qui compromettenti per vendetta no fra ragazzi soprattutto quando si concludono relazioni sentimentali travagliate anche in questo caso non ci sono le caratteristiche proprio del cyberbullismo sono fenomeni a sé che hanno caratteristiche tutte e proprie e sul cyberbullismo io non mi soffermerei più di tanto se non per il fatto che tre anni fa è stata promulgata una legge che è la legge 71 del 2017 che indirizza proprio il cyberbullismo e con qualche problema di applicabilità nel senso che prevede una definizione che non è quella che ho dato io che non è quella canonica per cui anche lì si parte male ahimè ma chi l'ha fatta non aveva la competenza probabilmente non aveva chiaro la differenza fra questo fenomeno e tanti altri la legge non considera i tanti studi sul tema in particolare il fatto che la maggiore incidenza si ha sotto i 14 anni cosa che dichiarate anche dal ministero dell'istruzione dell'università della ricerca il 55% dei fatti dei casi sono sotto i 14 anni e il fatto che già a 9-10 anni più dell'80% dei ragazzi hanno già lo smartphone mentre questa legge è applicabile solo nella fascia dai 14 ai 17 in più prevede come misura di contrasto la richiesta di rimozione dei contenuti ai provider quindi ai social piuttosto che alle piattaforme su cui vengono caricati questi contenuti denigratori o offensivi non tenendo conto che questa misura è inefficace è impossibile perché ahimè proprio la caratteristica dei social stessi che hanno come obiettivo la massima diffusione nel tempo più rapido possibile una volta che un contenuto è caricato questo viene ricondiviso scaricato e ricaricato quindi vivrà per sempre nella rete qualsiasi cosa tu possa fare anche se tu cancelli il contenuto originario esistono nell'arco di brevissimo tempo talmente tante copie che sarà di fatto impossibile rimuovere questo aspetto non è tenuto in conto nella legge non viene assolutamente considerato e prevede anche per esempio uno stanziamento oserei dire ridicolo di soldi per consentire agli istituti scolastici di fare eventi di organizzare eventi educativi sul tema nel senso che per il triennio 2018 2020 erano stati stanziati 203 mila euro all'anno e tenendo conto che gli istituti scolastici sono poco meno di 40 mila alla fine viene fuori un conto di 5,5 euro all'anno per istituto da investire in eventi educativi potete immaginare quindi che gli eventi educativi nelle scuole avvengano esclusivamente per volontariato è impossibile che un istituto scolastico abbia i fondi per fare eventi organizzati seriamente e soprattutto iterativi quindi con un certo programma nel tempo perché non o distolgono fondi da altre parti ma sappiamo che insomma la situazione delle scuole non è la più rosa poi in questo periodo esatto in questo periodo ancora di più e poi prevede sempre la legge l'incarico di un responsabile per il cyberbullismo in ciascun istituto scolastico ma appunto anche qui senza formazione adeguata quindi il problema mi metto anche nei panni dei docenti trovarsi con certe responsabilità senza avere una preparazione dietro è anche un po' frustrante da questo punto di vista comunque siccome il cyberbullismo è il più dibattuto io direi tralasciamolo ci sono aspetti invece che sono molto più importanti e poco dibattuti per esempio la tutela della privacy che non viene insegnata né a casa né a scuola privacy che è un tema che i ragazzi conoscono bene cioè quando tu gli chiedi sai cosa è la privacy lo sanno più del 90% ha risposto correttamente alla domanda appunto sai cos'è la privacy il problema qual è che la privacy anche qui è un tema molto dibattuto nell'ultimo ventennio è stato oggetto di diverse leggi da qualche anno è entrato in vigore il regolamento europeo GDPR per la tutela delle persone fisiche nella gestione dei loro dati personali il problema è che se c'è una buona base legislativa a tutela della privacy delle persone le persone non sono in grado di tutelare la propria privacy e questo è un problema fondamentale che sta alla base come la dipendenza tecnologica di tutta una serie di altri fenomeni per esempio il fatto che io pubblichi di tutto su di me quindi informazioni contenuti immagini video dati dove abito dove vado a scuola e i miei stati d'umore via dicendo i miei spostamenti soprattutto consente praticamente di generare sui profili social una sorta di di profilo sociologico proprio di ciascuna persona e questo questo insieme di informazioni se usato in maniera come dire malevola fraudolenta da parte di personaggi che sono formati e preparati a fare questo consente di ricostruire un vero e proprio profilo sociologico di ciascun soggetto e questo è la chiave con cui realizzare tutta una serie di altri come dire di altre azioni verso questo soggetto faccio degli esempi se se io voglio sono alla ricerca di un particolare modello d'auto faccio una ricerca sui social vedo chi ha postato foto di quell'auto trovo l'auto che mi interessa faccio un'osservazione dei profili social del proprietario raccolgo tutte le informazioni quindi dove abita che abitudini ha quando va in vacanza quanto ci sta e via dicendo di modo che quando lui sicuramente prima o poi pubblicherà la foto che ho scritto sto partendo due settimane per le Seychelles io so che ho due settimane di tempo so già dove abita io so che ho due settimane di tempo per organizzare il furto dell'auto sto facendo ovviamente un esempio ma allo stesso modo per esempio se io volessi adescare un minore posso analizzarne il profilo sociologico tramite i social sappiamo che i ragazzi i bambini pubblicano di tutto sulla loro vita qualsiasi aspetto e quindi mi basta un breve periodo di osservazione per ricostruire tutti i suoi movimenti quando esce da casa quando è da solo a casa che tragitto fa da casa a scuola o da casa alla palestra o da qualsiasi altro aspetto in quali orari e quali sono le sue preferenze quindi il calciatore del cuore la squadra del cuore piuttosto che il cantante preferito o tutte le passioni che ha raccolgo tutto questo in un profilo sociologico e quando lo intercetto sul sul percorso casa scuola o casa palestra uso queste informazioni per entrare nel suo cerchio di fiducia e in quel momento io ho ottenuto diciamo la fiducia da parte sua ho saltato le barriere di resistenza nei miei confronti e quindi ho la strada spianata per attuare quello che può essere un adescamento sia fisico sia digitale diciamo e potrei fare tanti altri esempi però il problema qual è alla base che tutte queste tecnologie in particolare i social le app sugli smartphone eccetera sono disegnate in maniera tale dicevo prima da attrarre il più possibile gli utenti e una volta tratti tenerli il più possibile incollati al display e ovviamente interagendo con queste tecnologie la cosa che si fa è condividere informazioni anche semplicemente mettendo dei like io sto raccontando ai social quelli che sono le mie passioni le mie preferenze le mie ideologie le mie preferenze politiche insomma tutto quello che riguarda la mia sfera personale e il problema qual è? che queste informazioni diventano di dominio pubblico vengono anche archiviate analizzate in maniera scientifica da parte di queste piattaforme che poi rivendono questi dati a terzi o le usano per fare quello che è il targeted marketing cioè le usano per fare campagne commerciali o vendere prodotti o proporre prodotti specifici per le preferenze delle persone infatti pochi si chiedono come mai tutti i servizi che vengono offerti da Google da Facebook da Amazon da Apple sono gratuiti sono gratuiti perché li stai pagando con i tuoi dati cioè tu cedendo le tue informazioni personali stai ripagando il servizio che loro mettono in piedi e il loro business è costituito da due aspetti uno è la pubblicità e il secondo è la raccolta e la rivendita di informazioni personali di dati dati che vengono usati appunto nelle maniere più disparate tant'è che sono certo pochissimi leggono le condizioni d'uso dei social prima di registrarsi spesso e volentieri quando installi un'app o ti registri su una piattaforma fai molto in velocità dai ok a tutto e vai avanti se invece ci si soffermasse a leggere le condizioni d'uso si scoprirebbero cose molto interessanti per esempio il fatto che tutte le piattaforme prevedono nelle condizioni d'uso che tu sottoscrivi che tutti i dati che tu gestisci o archivi o pubblichi tramite le loro piattaforme diventano automaticamente di loro proprietà quindi tu perdi completamente la proprietà sui tuoi dati personali e loro possono farne quello che vogliono possono rivenderli a terzi possono usarli per fare analisi di vario genere possono addirittura modificarli per scopi vari e quindi si è investito tanto in termini di tutela della privacy ma le persone non sanno come tutelare la propria quindi c'è questa attenzione verso per esempio il tutelare la privacy degli altri perché questo è forse l'aspetto più più dibattuto cioè non pubblicare foto senza l'autorizzazione di altri di persone che sono ovviamente contenute nella foto però quando si tratta della privacy personale il problema diventa importante e l'altro aspetto qual è? che la tecnologia non merita la nostra fiducia e io lo dico da esperto visto che me ne occupo da più di 25 anni perché non merita la nostra fiducia? perché la tecnologia essendo sviluppata dall'uomo ha una certa componente di vulnerabilità di fallibilità tutti i programmi hanno dei bachi hanno dei problemi possono essere violati hanno dei livelli di sicurezza che non sempre sono adeguati e questo cosa vuol dire? che magari anche tutte le informazioni che io carico su queste piattaforme in maniera privata cioè dico vabbè scelgo di non farle vedere al pubblico purtroppo possono comunque diventare pubbliche a fronte di violazioni da parte di hacker oppure violazioni accidentali dovute a malfunzionamenti della piattaforma e sono cose che avvengono diciamo quotidianamente se uno fa una ricerca nei casi di cronaca può vedere che praticamente ogni giorno ci sono casi di violazioni fughe di dati raccolta di credenziali d'accesso che vengono poi pubblicate online che poi vengono vi assicuro usate per accedere ai profili privati delle persone o delle aziende e quindi anche qui decade la privacy perché di fatto queste informazioni diventano pubbliche al mondo intero mi viene da sorridere perché mi viene a pensare qualche mese fa che erano dati online i dati dell'Inps dal sito esattamente poi lo Stato diciamo che non è fra i più virtuosi nel proteggere le informazioni ahimè perché a volte gli investimenti non sono adeguati non solo in termini economici ma anche in termini di competenza a tutto ciò si aggiunge per esempio un aspetto che riguarda proprio i minori che è quello del cosiddetto sharenting cioè la pratica sempre più diffusa dei genitori che per primi pubblicano informazioni e immagini dei propri figli e questo è un fenomeno tipico di chi fa un uso estensivo dei social o di chi fa dei social il proprio lavoro parlo per esempio dei cosiddetti influencer no? ecco gli influencer ovviamente sicuramente tutti saranno venuti in mente i Ferragni e Chiara Ferragni e Fedez sono fra i principali i più seguiti influencer a livello italiano ma ce ne sono tantissimi altri anche nostrani voglio dire modelle o esperti fra virgolette di fitness che fanno questi profili dove espongono tutti gli aspetti della propria vita no? e ahimè fra questi aspetti della vita ci sono anche i figli e non capiscono che questa è una violazione di un diritto fondamentale che è quello della privacy perché la privacy è un diritto fondamentale sancito appunto fra dalle leggi sia italiane che europee qual è il problema quindi che abbiamo sempre più bambini e adolescenti che sono sono come dire hanno contenuti pubblicati ancora prima che nascessero cioè ci sono genitori che pubblicano addirittura le foto delle ecografie quindi tu sei finito sui social dovevi ancora nascere e sei già online e in più puoi scoprire avanti con l'età quindi tipicamente verso i 14 15 16 anni che i tuoi genitori senza il tuo consenso che è richiesto per legge hanno per anni pubblicato qualsiasi informazione qualsiasi contenuto su di te cosa che non sempre può far piacere nel senso che negli ultimi anni sono nate delle cause legali figli contro genitori perché i figli si sono resi conto di questa di questa pratica da parte dei genitori e li hanno denunciati chiedendo la rimozione di tutti i contenuti pubblicati sappiamo che come ho detto prima è un provvedimento inefficace però è un indicatore del fatto che anche i genitori stessi non si rendono conto del fatto che stanno mettendo in vetrina la vita dei loro figli e insomma è un'enorme violazione di privacy da parte dei genitori verso i figli e poi si può parlare appunto del fatto che l'amicizia con gli sconosciuti non viene insegnato a fare attenzione spesso e volentieri io sento no ma guarda quanti amicizi hai ho 2000 follower 2000 amicizie con cui mi relaziono sì ma quante di queste ne conosci nel mondo reale e mi dicono ah sì ma forse 20 30 50 no e tutti gli altri no ma gli altri li conosco online no sì li conosci online li hai mai visti sai chi c'è dietro quel profilo vi assicuro che dietro molti profili di coetanei ci sono in realtà degli adulti che sono in osservazione e si spacciano per coetanei per raccogliere informazioni su quelle che poi sono le loro vittime designate ok ecco cioè in osservazione parli proprio di persone che parlo di persone che si spacciano per coetanei quindi mettono foto ovviamente prese dal web per anche magari di attraenti quindi in maniera da avere un certo tipo di appello e chiedono l'amicizia a bambini e adolescenti per adescarli e cercano nel tempo perché poi sono processi molto lunghi cercano di intraprendere una relazione che man mano nel tempo può diventare anche esclusiva quindi possono cominciare a scambiarsi numeri di telefono a colloquiare via whatsapp o via telegram insomma con strumenti di instant messaging dedicati quindi anche non intercettabili per esempio dai genitori o da altre persone e una volta che si installano questi rapporti il ragazzo il bambino è convinto di parlare con un coetaneo che magari gli chiede anche di scambiare contenuti compromettenti oppure addirittura di fare un incontro di persona per poi scoprire che non era quello che pensava e quando ormai lo scambio di contenuti compromettenti è avvenuto ad esempio si innescano meccanismi di ricatto di minaccia di ritorsione eccetera che possono far sentire i ragazzi minori soprattutto quelli più indifesi in un vicolo cieco perché dicono se parlo faccio una figuraccia con tutti i miei amici i genitori mi dicono chissà cosa eccetera se non parlo devo sottostare alle minacce e alle ulteriori richieste di questa persona e quindi si sentono in un vicolo cieco da cui non vedono via d'uscita e in questi casi se già lo stato emotivo non è dei migliori possono pensare a fare passi che sono anche estremi perché a volte è l'unica via d'uscita che vedono al di là di episodi di autolesionismo o problemi appunto alimentari il passo per uscire per molti di loro è quello di togliersi la vita e anche qui la cronaca siccome se ne parla poco secondo me troppo poco la cronaca è piena di casi di questo genere di ragazzi che si sono trovati in queste situazioni e per non sopportando la vergogna o il potenziale rischio di essere presi di mira hanno scelto di farla finita ecco non vanno sottovalutati questi aspetti e tutto questo parte dalla dalla incapacità di proteggere la propria privacy dicevo prima la condivisione da parte dei genitori al di là della violazione della privacy dei loro figli che questo è un tema molto più diciamo legale qual è il problema che tutte le foto che vengono pubblicate sui figli magari in costume da bagno o in biancheria intima o in situazioni particolari vengono puntualmente recuperate dai circoli di pedofilia online e ripubblicate su canali dedicati o addirittura su siti pornografici o utilizzando il il meccanismo del deep fake con cui a immagini pornografiche vengono messi in sovraimpressione i volti di di questi bambini questi adolescenti vengono creati dei veri artefatti molto verosimili anche compromettenti da questo punto di vista e posso assicurare che vedere le foto dei propri figli pubblicate su canali di pedofilia con a corredo dei commenti che potete immaginare quali possano essere da parte di persone malate non è dei migliori e sicuramente non giova a quella che è la reputazione e l'immagine dei nostri figli poi in futuro anche ecco quindi questi sono degli aspetti proprio legati alla privacy abbiamo detto l'adescamento l'adescamento è un meccanismo anche questo molto scientifico a volte si pensa che chi adesca i bambini siano persone disadattate o con problemi psichici o diciamo dei perdi tempo spesso si ha questa idea invece in realtà le persone che fanno l'adescamento online sono persone preparatissime sono di alto livello di istruzione perché ci vuole una preparazione a livello sociologico e psicologico molto importante per saper circuire i ragazzi e ottenere quello che si vuole e sfruttare tutte queste informazioni appunto richiede delle capacità delle conoscenze importanti c'è da dire anche che si tende a sottovalutare il fenomeno dell'adescamento molti ragazzi molti rispondenti alla nostra indagine hanno risposto che sono stati contattati più volte da da persone sconosciute online con l'intento appunto di incontrarli realmente oppure di scambiare contenuti di un certo genere quindi l'adescamento è un fenomeno latente molto presente e che comporta un rischio molto elevato perché intanto prevede delle fasi più viene scoperto in fasi preliminari più è facile uscirne indenni quindi se per esempio viene scoperto nel momento in cui si sta generando la relazione fra il bambino la vittima e questo adescante allora si può interrompere la relazione e bene o male i danni sono limitati potrebbe esserci qualche trauma psicologico di bassa entità se invece si va avanti la relazione diventa esclusiva e si cominciano a condividere informazioni e immagini intime compromettenti di nudità o cose di questo genere o addirittura si arriva all'incontro diretto allora lì il danno è irreparabile irreparabile perché si è portati a pensare che l'adescamento sia solo a scopo di abuso sessuale tant'è che le leggi che riguardano l'adescamento parlano solo ed esclusivamente di abuso sessuale ma l'adescamento può avere anche altri altri obiettivi incontrare un giovane un bambino di persona oltre all'abuso sessuale potrebbe avere per esempio l'obiettivo di rapirlo a scopo di estorsione potrebbe avere l'obiettivo di portare di rapire sempre il bambino e portarlo all'interno di circuiti di traffico d'organi o di prostituzione minorile o chissà quanti altri io nel libro ne parlo in maniera più approfondita ma insomma ci sono obiettivi anche molto più scabrosi ci sono giornalisti di inchiesta io cito sempre per esempio Gianni Lannes che è uno dei giornalisti che più si è occupato dei bambini scomparsi che denuncia il fatto che i bambini scomparino veramente in Italia si stima che ogni anno spariscono dagli 800 ai 2000 bambini si parla di 8 milioni in tutto il mondo ogni anno quindi parliamo di numeri non trascurabili solo pochi vengono poi recuperati o salvati molti finiscono appunto in questi circuiti più o meno oscuri e non ne escono più il fenomeno per esempio di Bibiano che è venuto fuori alla cronaca qualche mese fa che adesso ovviamente è stato ahimè dimenticato dai media un po' troppo velocemente è solo una punta di un iceberg che nasconde delle verità che sono anche difficili da accettare da conoscere quello era per esempio un'organizzazione in cui si portavano via legalmente dei bambini e delle famiglie per appunto aspetti analoghi ecco l'adescamento diventerà sempre uno strumento sempre più utilizzato l'adescamento online per questo scopo perché ovviamente è tremendamente efficace rispetto ad altri tipi di adescamento più tradizionale e dicevo non va sottovalutato il fatto che i bambini scompaiono perché è un tema che credo sia stato a più riprese dimostrato con i fatti di cronaca abbiamo citato Bibiano prima potrei citare per esempio a livello più internazionale il discorso dello scandalo di Epstein o Weinstein insomma quei personaggi che erano connessi con altrettanti personaggi molto molto in alto a livello di governi o di poteri tant'è che appunto ho citato prima Gianni Lannes Gianni Lannes parla sempre quando parla di bambini scomparsi che i mandanti sono a suo dire bestie facoltose quindi non sono non è l'uomo dietro l'angolo ecco il vicino di casa che pure può ovviamente essere un pericolo ma qua parliamo di situazioni organizzate e tremendamente efficaci passando al tema invece della sessualità online ovviamente uno degli aspetti è quello della pornografia bambini adolescenti entrano ormai avendo uno smartphone in mano tutto il giorno e senza filtri entrano in contatto molto presto con la pornografia anche perché ormai il porno è omnipresente lo si può trovare in punta di dito voglio dire tutti i siti sono ad accesso gratuito non serve registrazione hanno un'efficienza imparagonabile nel senso che chi ha provato a vedere un filmato su siti pornografici ha una qualità e una rapidità di fruizione che è incomparabile con quella per esempio dei media più diffusi come il corriere se tu guardi un video sul corriere prima che ti parta il video o a volte ha problemi non lo vedi ecco i siti pornografici non hanno questi problemi hanno una potenza di fuoco incredibile e non hanno necessità di registrazione quindi chiunque avendo un accesso all'internet può accedere a questi contenuti e il problema è che avendo questa possibilità lo fanno cioè possiamo dare per scontato che lo fanno sia perché c'è il passaparola fra di loro già in età molto basse già alle elementari c'è questa cosa si è visto qui visto là quindi si scambiano anche link e cose di questo genere e quindi il porno corre il rischio di diventare di fatto la loro formazione sessuale invece che avere un sviluppo sessuale sano e classico e qual è il problema però? che il porno rappresenta un mondo che non è quello reale quindi è un mondo in cui c'è un certo tipo di immagine sia del maschio che della femmina in cui è un mondo che ovviamente soffre anche di un certo tipo di problemi perché non è un mondo abbastanza oscuro insomma quello del porno di recente negli ultimi anni ci sono diversi casi di porno star che si sono suicidati perché non resistono in un ambiente del genere e quindi l'immagine che viene data tramite questi film questi contenuti non è esattamente molto sana e questo poi corre il rischio di entrare nella formazione sessuale di questi bambini questi ragazzi che quando poi si trovano ad avere a che fare con i partner possono vivere la cosa possono interpretarla in maniera sbagliata e questo riporta quindi il discorso sul tema del sexting questa pratica che è sempre più diffusa per cui i ragazzi i bambini si scambiano questi contenuti di nudità o addirittura di atteggiamenti sessuali espliciti a volte per compiacere il partner oppure addirittura per conquistare qualcuno il problema è che quando questi contenuti escono dalla tua sfera privata possono essere usati nelle maniere più disparate possono diventare di dominio pubblico in maniera accidentale perché per esempio il cellulare viene smarrito e qualcuno lo prende lo filmato e lo diffonde oppure a volte per questioni di ripicca o di ritorsione o di ricatto vengono pubblicati online o diffusi su gruppi di discussione su whatsapp per danneggiare la persona che li ha prodotti e dicevo prima chi subisce queste cose al pari del cyberbullismo dell'adescamento o cose di questo genere si ritrova anche lì in un vicolo cieco perché ormai la sua immagine è irrimediabilmente distrutta compromessa e come può uscirne non ne può più uscire perché quel contenuto rimarrà online per sempre e quindi a volte appunto anche qui in questi casi l'unica via d'uscita che vengono è quella del togliersi la vita e poi ci sono anche altri aspetti per esempio sempre legati alla sessualità l'utilizzo anche qui sempre in crescente delle video chat a sfondo sessuale ci sono piattaforme che qui senza registrazione senza necessità di registrazione come Omegle una delle più famose con la quale i ragazzi così anche per curiosità o per divertimento si espongono con sconosciuti e lì ci può essere uno scambio queste sessioni possono essere anche registrate dall'altra parte e poi possono essere usate a scopo di ricatto anche in questo caso con gli effetti che abbiamo detto prima e poi c'è un altro fenomeno sempre più diffuso che è quello di usare il proprio corpo per monetizzare quindi soprattutto questo è un fenomeno che riguarda soprattutto la sfera femminile sempre più ragazzine ma anche in età molto basse parlo di 10-12 anni che si espongono online su YouTube perché poi YouTube ha dei filtri che sono un po' poco efficaci si espongono online con la scusa di provare costumi da bagno lingerie o chissà cos'altro e ovviamente si può immaginare che il risultato in termini di follower è importante con l'obiettivo di monetizzare queste view queste visualizzazioni e poter fare soldi di fatto però stai vendendo la tua immagine anche in un modo non proprio consono per cui poi in futuro ti porterai dietro quell'immagine di disinibita che potrebbe diventare poi un macigno nella tua vita personale e professionale futura e purtroppo appunto non se ne rendono conto e magari i genitori sono anche abbastanza assenti in questi casi ecco quindi sono tutti aspetti che vanno conosciuti vanno dibattuti vanno spiegati ai genitori perché a loro volta li spieghino ai figli ma allora io ti faccio un paio di domande giusto per capire anche se non è la soluzione del problema ma tu a che età diresti di poter consegnare ecco che precauzioni un dispositivo un po' collegato all'internet soprattutto a un ragazzino beh le linee guida dell'oms per esempio dicono che fine due anni non dovrebbero avere nessun accesso al display e dai due ai quattro anni massimo un'ora al giorno è molto importante anche l'abitudine la qualità della vita legata all'uso di questi dispositivi cioè l'uso di questi dispositivi non deve diventare un fattore predominante nella vita quotidiana e non deve sacrificare quelli che sono i bisogni primari quindi nell'alimentazione il sonno lo studio lo sport l'attività fisica la relazione sociale quando queste vengono sacrificate in nome dell'utilizzo adesso oggi non abbiamo parlato di videogiochi ma ci sarebbe tutto un capitolo su quell'ambito lì ma il fatto di avere sempre questi dispositivi in mano espone questi ragazzi a rischio di sacrificare appunto attività che sono assolutamente necessarie tant'è che gli effetti di questa sovraesposizione digitale si vedono anche nel fisico sia a livello mentale ovviamente perché c'è un deficit di attenzione sono cose che sono abbastanza dibattute ma il problema che si sta osservando è che ci sono effetti anche dal punto di vista fisico quindi ci sono delle sindrome dei disagi legati per esempio alla postura c'è un fenomeno osteoscheletrico che è stato osservato da più ricerche negli ultimi anni che si chiama text neck che riguarda la curvatura delle vertebre cervicali legata al fatto che appunto i ragazzi stanno sempre più col collo piegato per vedere per guardare il display soprattutto in posizione seduta e questo sta generando una modificazione scheletrica della spina dorsale dei ragazzi che crescono con questa sorta di gobba che non ha sia un colpo di salute poi si potrebbe parlare ad esempio dell'obesità o di problemi cardiaci cardiociculatori legati al fatto che c'è un'eccessiva sedentarietà piuttosto che fare due o tre ore di sport all'aria aperta come si faceva una volta si andava in oratorio si giocava tre o quattro ore con gli amici si tornava a casa di studi e quella era tutta attività salutare oggi i ragazzi vanno in palestra un'ora due ore a settimana ma tutto il resto del tempo sanno in casa e siano costantemente a contatto con questi dispositivi non tutti ovviamente per fortuna però diciamo chi cade in questo tipo di pratica se non ha il controllo e il supporto dei genitori nel privilegiare invece attività più sane può avere problemi dal punto di vista fisico dicevo invece dal punto di vista mentale la per esempio la deprivazione del sonno che è uno degli aspetti più diffusi della dipendenza tecnologica perché si tende ad usare lo smartphone fino alla tarda ore della sera prima di andare a letto sempre l'ultimo video su youtube sempre l'ultimo video poi tanti bambini e tanti adolescenti si svegliano durante la notte pur di continuare a chattare con amici quando i genitori non ti vedono o addirittura per giocare ai videogiochi privandosi di ore di sonno che sono fondamentali nell'età dello sviluppo quindi a livello di infanzia ed adolescenza e la privazione del sonno comporta delle modificazioni al cervello sappiamo che il cervello è un organo plastico che si modifica sulla base di quelle che sono le sollecitazioni e questo queste gratificazioni effimere poi ci serve anche qui tutto un discorso da fare legato per esempio all'azione della dopamina nell'utilizzo di social piuttosto che dei videogiochi o di altri aspetti che va a sollecitare particolari aree legate alla gratificazione nel cervello gratificazione che ovviamente non è sana ma è artificiale e che sono guarda caso le stesse aree sollecitate da dipendenze di altro genere per esempio quelle legate all'alcol al fumo o alle droghe quindi andare a sollecitare nell'infanzia e nell'adolescenza tramite gratificazioni effimere come i like sui social o i videogiochi di un certo genere in maniera continuativa tutti i giorni già a partire da età intorno ai 5-6 anni fino alla fine dell'adolescenza genera appunto una sovrasolecitazione di queste aree del cervello che sono le stesse legate ad altre forme di dipendenza quindi apre la strada ad abbracciare altre forme di dipendenza in età più avanzata ed è anche questo un fenomeno che si sta osservando cioè la correlazione che poi io tratto anche in questo libro netta che emerge dai dati fra per esempio i forti giocatori videogiochi e l'utilizzo per esempio di cannabis o di sostanze stupefacenti e quindi insomma direi che non c'è molto da discutere da questo punto di vista sentimi un attimo perché il tempo è quello che hai voglio capire come fonti di informazione tu ovviamente abbiamo un libro sì il libro magari non l'abbiamo detto all'inizio il libro si chiama Generazione Z ok è un sottotitolo è fotografia statistica e fenomenologica di una generazione iper tecnologica e iper connessa ok è un libro che si trova su Amazon quindi cercate Generazione Z Ettore Guarnaccia trovate il libro si può ordinare sia in formato cartaceo che elettronico e questo libro fornisce quella che è la dimensione statistica dell'incidenza di questi fenomeni nella vita dei nostri figli ma dà anche quelle che sono le contromisure che i genitori e anche gli insegnanti possono adottare per contrastare prevenire eventuali incidenti problemi per i loro figli e studenti e per trasmettere loro i giusti strumenti cognitivi per appunto prevenire problemi o incidenti di percorso nell'utilizzo delle tecnologie digitali quindi è un libro che è strutturato anche per argomento quindi c'è la possibilità di usarlo come una sorta di dizionario manuale quindi per singolo argomento io posso ricercare e posso quindi andare a sviscerare la singola tematica capendo qual è l'incidenza in quale età sorgono determinati fenomeni cosa aspettarmi con l'avanzare dell'età dei ragazzi e insomma quindi mettere in campo quelle che sono le controvisioni ma soprattutto dal punto di vista dei genitori dei docenti imparare a conoscere i meccanismi che stanno dietro a questi fenomeni cioè come sono nati come funzionano e come prevenirli ok a parte il libro vabbè che è disponibile hai detto su Amazon come ti si può conoscere perché ho visto che hai ettoreguernaccia.com si ettoreguernaccia.com è il mio il mio blog diciamo dove io pubblico informazioni e contenuti legati a questi aspetti e faccio divulgazione ormai da tanti anni vedo che non ti mancano canali social poi esatto poi ci sono tutti i canali social su facebook su twitter su linkedin su youtube anche ci sono tutte le conferenze gli eventi educativi che ho fatto le interviste c'è la possibilità di approfondire questi temi io ovviamente non mi sono fermato a questo libro ma sto continuando a lavorare ho dei progetti sia editoriali che di divulgazione ulteriori proprio per continuare questo tipo di informazione che secondo me è fondamentale per la formazione sana delle prossime generazioni adesso il libro si chiama generazione z ma c'è già una nuova generazione che dal 2010 si chiama generazione alfa e che è ulteriormente esposta appunto alla tecnologia digitale perché vi entra in contatto a un'età molto più bassa rispetto alla generazione precedente e con un'estensione un'invasività nettamente superiore da poco nasceremo con la chiavetta non è un'ipotesi così remota perché come sai si parla già di interazione uomo-macchino quindi sono scenari che non sono così lontani né tantomeno complottistici come si dice ma sono in realtà molto reali molto presenti non approfondisco altre tematiche perché il tempo è quello che è ho cercato di fare anche qualche domanda in base ai nostri radioascoltatori ne approfitto per rispondere a Barbara per dire no non abbiamo la diretta Facebook però ovviamente il contenuto di questa trasmissione sarà poi pubblicato su YouTube poi vediamo c'è Fabrizio uno degli aspetti su cui si dovrebbe soffermare è il fatto che con troppa facilità in tenere si lascia il figlio ma non è già con il telefonino e il tablet sì l'abbiamo discusso prima ovviamente sì la sorveglianza il controllo dei genitori è fondamentale ovviamente tutti questi aspetti sarebbero assolutamente ridimensionati se ci fosse una consapevolezza soprattutto dei genitori il controllo è qualcosa che viene dopo no? sì sì no mi fa sorridere un commento che dice non si può vendere un libro così su Amazon fai quello che dicono fai quello che faccia dicono ah perché è un conflitto di interesse in pratica forse questo volete beh Amazon devo dire che ha un'efficacia assolutamente eccezionale nel 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 poter vendere libri senza l'assillo delle case editrici quindi fra l'altro c'è la possibilità di autogestire i contenuti quindi da questo punto di vista ahimè concordo sul fatto che Amazon è uno delle big che si ciba delle nostre informazioni però d'altronde non ci sarebbero alternative da questo punto di vista assolutamente sì vabbè siamo ovviamente anche qui come radio come realtà a favore dei piccoli però purtroppo ci sono i più grossi ma se poi c'è una case editrice a cui interessa collaborare io sono assolutamente disponibile però ho fatto fatica perché questi temi non sono così conosciuti e le case editrici non hanno questa sensibilità per poterli approcciare ecco poi capiscono anche che sono abbastanza scomodi quello forse più che altro e quindi difficili appunto da pubblicare ecco d'accordo va bene allora io ti ringrazio Ettore grazie a voi per l'invito è stato assolutamente gradito io come tutti gli ospiti che insomma hanno suscitato interesse ovvero un invito a una prossima trasmissione anche perché poi hai aperto tante parentesi però in realtà sì bisogna prendersi il libro per capire sì mi dispiace per esempio di un tema che riguarda tutti i ragazzi è quello dei videogiochi ma ne parleremo magari un'altra volta perché merita veramente un focus dedicato a quella d'accordo grazie mille grazie a tutti per l'ascolto grazie a tutti